meloni potrebbe essere l'unica opposizione con italexit ex m5s fratoianni ma i suoi voti sarebbero inservibili e il partito rischierebbe di tornare come il vecchio msi senza possibilità di spenderli gli ex parlamentari di ann un suicidio se già i sondaggi attualmente davano il partito di giorgia al 17 per cento l'unico in costante crescita tutto fa prevedere che i consensi aumenteranno ulteriormente visto che potrebbe essere l'unico o quasi all'opposizione insieme al massimo italexit di gianluigi paragone a eventuali scissionisti pentastellati che decideranno di votare no alla fiducia a draghi e dovrebbero essere immediatamente espulsi in base alle precedenti regole pentastellate e ad altri eventuali scissionisti di liberi e uguali con la parte di origine più di essina che fa capo a roberto speranza e federico fornaro che pare intenzionata a votare la fiducia e invece quella più movimentista ed erede di rifondazione di nicola fratoianni e la sinistra che invece vorrebbe stare all'opposizione ma restiamo a fratelli d'italia dove giorgia meloni perrebbe essere appoggiata plebiscitariamente dai gruppi parlamentari e dagli organismi territoriali tutti attestati sulla linea del no senza se e senza ma tanto che addirittura guido crosetto che è l'esponente più spendibile più apprezzato in modo bipartisan fra tutti quelli di fratelli d'italia tanto da essere ipotizzato come possibile ministro nell'esecutivo draghi a un certo punto è intervenuto pubblicamente per dire che anche lui era assolutamente allineato alla posizione ufficiale del partito il punto però è che un'indubbia coerenza sarebbe l'unico partito della legislatura a non essere mai stato in nessuna maggioranza delle tre che si sono alternate tradotta nell'urlo elezioni elezioni in realtà mostra la corda sul fatto che per mille motivi alcuni dei quali esplicitati dal presidente della repubblica sergio mattarella nel discorso che ha portato a draghi si sapeva che le elezioni che non ci sarebbero mai state